Grande atmosfera, tutto pronto allora per cominciare, l'attesa finalmente è finita. Attenzione a Ramos, particolosi, attenzione a Ramos, proprio lui! Grande grido in vantaggio, Griezmann va a cercare Torres, attenzione scontro e faccia libera! Si può travolgere nettamente Torres, grande occasione, Griezmann, incredibile, attraverso pieno, occasione clamorosa buttata via! Attenzione a Gabi, Guamfran la mette in mezzo, ma Rata! Rata! Incredibile! L'Atletico Madrid è ancora vivo! Non c'è più tempo, calcio di rigore! Guamfran, fa col destro, Paolo! Attenzione! Adesso Real ha il rigore per la vittoria Cristiano Ronaldo! Rata! Rata! Il Real Madrid è il campione d'Europa per l'undicesima volta! Grosso contro Barthez! Grazie! 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 Grazie!